Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Per traffico intenso sulla FIPI-Li code in uscita a Lastra-Signa in direzione Mare, rallentamenti tra Lastra-Signa e Firenze-Scandici, su raccordo Siena-Firenze per lavori possibili disagi tra Colonna del Grillo e Rapolano e tra Casetta Monte Aperti e Castelnuovo Berardenga. Sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. La viabilità cittadina a Firenze in via di Bello Sguardo per lavori alla rete idrica ci sono modifiche alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!